Cosentini è rispettosi delle nuove prescrizioni previste, delle nuove disposizioni emanate in seguito al nuovo aumento dei contagi da Covid. Ad affermarlo il sindaco di Cosenza Franz Caruso che si dichiara soddisfatto dopo la serie di controlli avviati dalla Polizia Municipale e dalla Guardia di Finanza Abruzze che ha portato ad un'importante azione sul territorio di verifica del rispetto per l'appunto delle prescrizioni anti-Covid. Ma deve esprimere soddisfazione per il comportamento dei cittadini perché da tutti questi controlli è emerso chiaramente che i cittadini rispettano le prescrizioni anti-Covid. Per cui sicuramente un'iniziativa positiva significa che è passato il messaggio che per poter arginare questa avanzata preoccupante della pandemia è necessario mantenere i presidi di sicurezza, rispettare le distanze, evitare gli assembramenti e seguire tutte quelle prescrizioni che a livello nazionale sono state inserite appunto nell'iniziativa governativa. E invitare ulteriormente a colori che ancora non si sono vaccinati perché purtroppo le terapie intensive sono pieni di pazienti Covid non vaccinati da andarsi a vaccinare? Assolutamente sì, quella che è l'esperienza che noi abbiamo registrato e che ha dato risultati positivi dobbiamo dire è questa della vaccinazione. Per cui sicuramente l'invito è ad andare tutti quanti a vaccinarsi perché è l'unico modo per sconviggere la pandemia. Sappiamo che tutti, il 100% dei ricoverati in ospedale sono soggetti che non hanno fatto la vaccinazione. Per cui sì, credo che la responsabilità di tutti sia quella di invitare i cittadini ad andarsi a vaccinare.